Nell'atelier di Time Rivestimenti, azienda leader per quello che riguarda le forniture di alberghi, uffici e non solo negozi, incontriamo Mauro e Fabrizio Cesarone che dirigono questa importante attività. Oggi giornata dedicata a Time e Litos con i manager di Prati Group per parlare di un nuovo prodotto. Di che si tratta? Allora, in realtà Litos ha sposato un progetto che è quello del reinventare tutto ciò che è già stato fatto, cioè un LVT diverso, di colori particolari, progetti per architetti e tutto ciò che vi mostro brevemente che ha a che fare con la personalizzazione. Ossia pavimenti, rivestimenti per qualsiasi e dico qualsiasi superficie che abbiano tutte le caratteristiche del bello, del comodo, del pratico e del non costoso. Litos sposa Time, Time sposa Litos perché Time è un'azienda che da tanti anni vende e posa questi tipi di materiali. Litos con questo nuovo progetto vuole coinvolgere le attività che sono più dentro al mercato del PVC, delle LVT, del WOMEN, del WPC, di materiali sintetici e comunque comodi per risolvere problemi di qualsiasi genere. E niente, oggi abbiamo fatto questo convegno, siamo stati insieme, gli architetti si sono divertiti e il progetto è nuovo ma sarà molto interessante. Ne vedremo delle belle, a colori soprattutto. Fabrizio Cesarone, voi date una prima o una seconda pelle a tutte le attività, curate ogni minimo dettaglio. È chiaro che senza il vostro contributo non si può parlare di arredamento, di valorizzazione architettonica. Assolutamente, noi oggi infatti abbiamo approfittato con questo convegno organizzato con l'ordine degli architetti nell'invitare e presentare questo nuovo prodotto e soprattutto far conoscere meglio la nostra azienda che è specializzata nella ristrutturazione. Quindi noi, ciò che il cliente ha come idea e l'architetto riesce a progettarla, noi siamo in grado di realizzarla seguendo comunque le ultime novità che ci sono adesso nel mercato, che ci offre il mercato. È stata una bella giornata perché non ci aspettavamo questa grande affluenza, sono stati presenti oltre 70 architetti e quindi abbiamo presentato questo prodotto e in più abbiamo ripresentato la nostra azienda che ormai nel territorio è comunque ampiamente conosciuta. Parliamo anche di brand nazionali, negozi, megastore, tanti importanti marchi sono rivolti a voi per ristrutturare e anche per inaugurare? Assolutamente sì, noi ci rivolgiamo alle imprese locali, a diversi marchi di franchising per i quali lavoriamo in sede, in regione e anche fuor regione e a tanti privati ai quali ristrutturiamo che siano casi, appartamenti, locali, ristoranti. Per fortuna forse la nostra serietà nel tempo ci sta premiando perché sono due anni che incrementiamo ogni anno maggiormente il nostro fatturato. Abbiamo una media di 20 operai, più siamo una diecina di persone all'interno dell'organizzazione e con ottimi risultati, soprattutto in termini di soddisfazione del cliente. Allora chi più di voi torna a parlare con Mauro Cesarone può dire se l'economia si stia riprendendo perché chi vuole rinnovare, ristrutturare, aprire un'attività si rivolge ovviamente a voi? Allora diciamo che l'economia è come tutte le forze a fasi alterne, ci sono periodi migliori e periodi peggiori e questo in ogni settore. L'importante a mio avviso è il fatto di essere al passo con i tempi indubbiamente ma soprattutto cercare di dare sempre il prodotto giusto, cioè non quello che fa comodo a noi che vendiamo che possiamo, ma quello che fa comodo al cliente o quello che serve al cliente perché a volte non bisogna essere economici e a volte non bisogna essere costosi e bisogna sapere quello che in realtà serve a chi ha bisogno di una ristrutturazione quindi saper consigliare secondo me è la chiave di volta per andare avanti e migliorarsi e perché no crescere piano piano e con un passo alla volta.